Attimi di paura venerdì 5 gennaio per i passeggeri di un Boeing 737 MAX dell'Alaska Airlines. Un pannello del finestrino è esploso sette minuti dopo il decollo da Portland, in Oregon. Nessuno dei 174 passeggeri dei sei membri dell'equipaggio è rimasto ferito. La Federal Aviation Administration ha avviato un'ispezione immediata degli aerei MAX 9 operati da compagnie aeree statunitensi o volati negli Stati Uniti da vettori stranieri.